Il segreto per spendere poco, soprattutto quando stai in un ostello e hai la colazione inclusa, è mangiare come un maiale la mattina. Secondo round. Tutto questo perché la colazione è il pasto più importante della giornata, non per altro. Oggi il nostro ostello, Casa Pepe, ha organizzato un tour gratuito in cui visitiamo un po' la città ed è una cosa fighissima perché non avevamo idea di che cosa visitare e con loro stiamo un attimo capendo come è fatta la città, le zone, varie fighetterie. Te le mostro, più o meno. Ragazzicino. Salute. Salute. Guarda quanto è vinta la città. Questa grafica è fantastica. Si può descrivere il font soltanto con una parola, prezioso. Allora abbiamo questa situazione molto instagrammabile. per la prima volta in vita mia assaggerò il vero guacamole, quello del Messico. e anche quel rumore della polizia di qui. Salute. Ci sono di guacamole. Approvato. Sono arrivati pure i tacos, ci mettiamo un po' di guacamole, ecco qua.